life coach ci siamo siamo partiti come stai eccoci monti tutto bene tutto bene grazie devo dire che ho seguito le tue partite e soprattutto i tuoi commenti con grande attenzione perché sono una miniera che sembra di uno sospetterebbe no che sia l'allievo che fa delle domande al coach invece in realtà è per un corso è fondamentale capire di cosa può avere bisogno un allievo e vedere proprio come giochi quello che pensi a cuore aperto è qualcosa di straordinario è interessante ovviamente per chi non avesse visto il video precedente abbiamo lanciato questa challenge dove cerco entro fine anno di arrivare online a livello elo 2000 come ranking online non dal vivo fide si chiama la ide sarebbe federazione internazionale di sé che è l'organismo internazionale ufficiale che gestisce gli scacchi per cui ogni giocatore licenziato con la fide ogni allenatore a livello internazionale ha il titolo di fide trainer per esempio o titoli inferiori ogni federazione nazionale deve essere affiliata alla fide per cui in ultima analisi il giudice diciamo il mondo degli scacchi è proprio questa federazione come fosse la fit del tennis o la fitted del ping pong questa è una chicca per adetti ai lavori però insomma abbiamo partorito questa questa challenge dove prova arrivare a 2000 online ripeto che è più facile che arrivare a 2000 nel mondo fisico immagino molto più più semplice però è comunque un traguardo non facile e con Pierluigi ci troviamo una volta a settimana registriamo questa lezione a vantaggio anche di tutti quindi anche le persone che magari non hanno un allenatore vorrebbero vedere sono quali sono le indicazioni può essere veramente contenuto utile e devo dire ci sono stati commenti alterni sia quelli che hanno detto dai grandi sia quelli che hanno detto allora uno mi ha detto aspetta Pierluigi mente sa benissimo che non ce la farai mai capito questo è stato un commento il coach mi sta mettendo lo so e questa è veramente come tutti i mentitori non posso continuare a mentire o posso dire che mente lui che dice che io menta esatto esatto quindi c'è questa teoria cospiratoria sono anche realtà menti ma sei benissimo che non ce la posso fare poi un altro mi ha fatto morire per l'ignoranza dei social io l'ho anche detto sei proprio l'emblema dell'ignoranza dei social perché ha scritto prima ma scritto ma questo non era il guru del trading e ti faccio notare che io non ho mai parlato di trading in vita mia e non ho mai fatto trading in vita mia cioè quindi questo è un piccolo dettaglio e poi dice vabbè si faranno più soldi con gli scacchi e ho pensato caspita l'ignoranza è una brutta bestia cioè non immagino che siano miliardari i giocatori di scacchi magari ecco Magnus Cars insomma due tre giocatori però insomma in genere non penso che sia uno sport estremamente ricco ecco però insomma per darti l'idea della cifra dei commenti c'è anche questo c'è anche questo e quindi ho avuto persone che ho detto non ce la farai mai anche su Instagram ho scritto ce la farò varie persone hanno scritto no questo è l'entusiasmo però vedi Pierluigi io ho uno strano carattere da questo punto di vista perché l'ho sempre detto anche ai miei haters in giro poi qua stiamo giocando insomma non ci sono haters è solo così un po' è un cazzeggio e poi è come dire è talmente bello giocare a scacchi che quello è quello che conta non è tanto la classifica però quello che ho notato è che quando qualcuno mi dà contro siccome da bambino giocava ping pong e sono nato così con l'ostilità addosso no il pubblico contro cioè io mi carico cioè se uno invece vuole che io non arrivi mai a 2000 scacchi basta che mi lasci tranquillo cioè non mi dica niente poi dopo un po' magari ma no io ho capito se uno mi dà contro ecco no I'm gonna prove you wrong now capito a sciocco continuazione quindi insomma è un'ottima carica ecco sono carico coach lo vedo lo vedo e fai bene i commenti un po' disfattisti si possono capire perché è ambizioso lo ripeto il traguardo di un'illa è ambizioso però devo dire che non ho mentito io credo che una persona che sia motivata ha il tempo ha voglia e si dà per esempio degli strumenti come un coach no degli esercizi una routine eccetera io credo che ce la possa fare sono proprio convintissimo di questo e anche vedendo le due partite è chiaro che ci sono degli errori talmente grandi che sono un ottimo segnale io da allenatore quando vedo quelli cosiddetti blunder quelle cose proprio gigantesche sono fantastici perché un grande errore indica una grande progressione perché il momento in cui io tolgo il grande errore alla fine rimane un buon gioco mentre chi non c'è il buon gioco quindi alla fine non c'è neanche il grande errore c'è una partita che è giocata male punto e basta a quel punto io posso fare un po o meglio ci vuole molto tempo devo intervenire proprio sulle basi della percezione stessa del gioco mentre nel tuo caso sì prima ancora che ci parlassimo quando ho visto per la prima volta le due partite ho capito che il fondo c'è ovviamente arriva un certo punto in cui per te diventa buio per tutta una serie di motivi che io posso al momento congetturare poi magari insieme no vedremo ma per questo il fatto che tu commenti le partite per me è un materiale proprio d'oro e questo significa che a un certo punto spariranno i blunder progressivamente e a quel punto sei molto vicino a 2000 perché no io sono proprio veramente convinto di questa cosa allora prima di buttarci sulla scacchiera ti riepilogo la routine che ho preso travolta ecco da quando c'è il prima prepiscopo e postpiscopo nella mia vita c'è proprio cambiata la mia esistenza anche per la mia famiglia che a quel punto come dire a come dire beneficio dal fatto che non sono sempre attaccato alla scacchiera ma mi sono organizzato così ho da un lato i puzzle non so come si chiama in italiano i problemi esercizi esercizi tattica faccio sia quelli che mi hai dato tu che per chi non sapesse per oggi mi ha dato degli esercizi dove è solo visualizzazione cioè tu non muovi dei pezzi ed è un pdf io guardo sta sto pdf dalla scacchiera e prova a visualizzare la mia testa la soluzione senza sapere poi se ho trovato la soluzione giusta quindi questo mi mette un po di ansia però va adesso questo è un aspetto e poi su un certo come invece faccio matto in uno matto in due matto in tre spippolo insomma un po su questo questo come esercizi poi faccio nella pausa pranzo in teoria io non c'è una cosa però in una pausa in un qualche momento della giornata faccio quattro partite di fila mi siedo faccio quattro partite e provo a farle davanti a uno schermo quindi vedo più grande non so questa teoria che gioco meglio se vedo più grande e poi faccio un paio di partite finali tipicamente verso sera sul cellulare sono lì quando c'è un momento però con concentrazione non come prima che magari cucinavo e partivo a fare una partita così quindi questo è quello che sto facendo risultati sono partito subito bene per sono subito arrivato a 1600 passati 1600 ho detto wow adesso non mi ferrà più nessuno come bitcoin sono andato su e adesso invece gli ultimi due giorni ho giocato abbastanza maluccio e sono tornato a 1500 ma non hai giocato male non è giocato male hai fatto più blanda adesso poi ti mostro in una partita vi matto in due ma dai credo poi posso posso sbagliare ma credo che fosse così e secondo me non hai giocato male che ci sono dei normali ritracciamenti quando uno va avanti come quando fai esercizi come i muscoli in pratica non a certo punto c'è uno strappo che ti impedisce di fare l'esercizio bene però la volta successiva il muscolo cresce e allora fai un salto ancora io penso che sia in una dinamica di questo tipo francamente le ultime partite non sono brutte partite non hai giocato male ok in alcune posizioni forse sì ma ti assicuro che non hai non hai fatto delle partite brutte le ultime rispetto alle cioè rispetto a quelle in cui hai guadagnato punti che non bisogna essere ossessionati dalla rating no c'è il rating è una fotografia la fotografia di quel momento come efficacia come risultato quindi non è stata così buona verso la fine come era all'inizio semplicemente questo ti dice il rating ma come qualità del gioco secondo me non c'è anzi è giocato meglio le ultime partite che verso che non quelle in cui guadagnato un sacco di punti interessante fantastico allora direi partiamo io c'ho qua diciamo questa aula virtuale e non so quale strumento di tortura tu oggi abbia oggi facciamo una cosa molto bella molto molto bella perché come tu sai come anche sanno le persone che stanno seguendo questo esperimento abbiamo cominciato dal cosiddetto pensiero scacchistico concreto ok cioè come tu data una certa posizione pensi alle cose che effettiva le relazioni che effettivamente sono presenti sulla scacchiera che sono relazioni di natura tattica cioè basate sulla relazione semplice della cattura lo mangio mi mangia si difende lo attacco si sposta ecc adesso ti guido io all'inizio ti guido io poi dopo ti lascerò ti lascerò muovere i pezzi perché voglio farti ragionare sul concetto di forza e debolezza oggi parliamo questo forza e debolezza perché perché quando io voglio fare un attacco e il gioco degli scacchi è un gioco fondamentalmente basato sull'attacco sul poter attaccare e mi piace come giochi monti perché tu si vede che sei un giocatore naturalmente portato all'attacco poi forse un giorno ci dirai se il ping pong ti ha stradato se nel ping pong è vero ero un attaccante un brutale attaccante a ping pong si è questo negli scacchi e buonissimo gli scacchi sono fatti per attaccare però non è che posso attaccare a testa bassa senza capire cosa sto attaccando si attacca una debolezza perché se attacco ciò che è forte faccio una fatica enorme magari mi si ritorce contro quindi se non riesco a capire cosa è debole non ho obiettivi d'attacco ecco perché in una posizione prima ancora di utilizzare la logica delle mosse forzanti che appunto uno strumento di lavoro quando già sto in una direzione ben precisa mi dice qual è appunto l'ordine logico nel quale mettere le cose prima ancora di questo devo individuare il bersaglio da colpire e qui interviene lo studio delle debolezze tattiche sai che hai detto mi ha detto la stessa frase che mi disse il mio allenatore di ping pong quando uscimo la prima volta mi portò tipo al ristorante mi diede un decalogo ok così scritto a mano dice 10 regole che devi sempre ricordarti tra cui c'era non so stringi la mano all'avversario quando perdi non so roba anche proprio di etichetta e poi uno delle regole era metti sempre il tuo punto più forte sul punto più debole dell'avversario regola del tempo molto semplice se uno ha capito un dritto clamoroso non è che gli giochi lì cioè cerchi il punto debole e metti il tuo punto che forse quindi mi piace molto questo parallelismo è esattamente così guardiamo questa posizione guarda in tutta prima regola in tutte le posizioni degli scacchi ci sono sempre due debolezze una per il bianco e una per il nero quali sono queste due debolezze in tutte le posizioni degli scacchi non esiste nessuna posizione scacchistica ammessa dal regolamento senza che queste due debolezze siano presenti ok queste due debolezze sono i rispettivi prima regola del gioco il re è una debolezza tattica per definizione sempre in qualsiasi posizione sempre e comunque ti ricordi che quando tu commetti la partita a volte dice spesso anche dici la qui non so che fare esatto nel momento in cui noi partiamo al punto di vista che fare significa attaccare attaccare significa attaccare ciò che è debole e riconosciamo in ogni posizione sempre almeno una debolezza dell'avversario che io avevo già qualche idea ci può venire poi se a questa aggiungiamo altre debolezze che impariamo a identificare avremo sempre delle idee quindi quello che ti voglio dire che voglio diciamo rispondere alla tua domanda della domanda di tutti gli scacchisti mo che faccio che fare no che fare trova la debolezza già è un indizio già quando riesce a trovare una debolezza stai facendo un grande passo in avanti comunque questo lo specificherò meglio alla fine sono partito dalla fine che una cosa tipicamente scattistica ma guardiamo bene cos'è debole in questa posizione in questa posizione il nero a parte il re non ha debolezze perché perché l'alfiere poi è già difeso da un pedone ok quindi per esempio col bianco posso fare la mossa cavallo e 4 alle 4 non sta minacciando di catturare l'alfiere perché se cattura l'alfiere il pedone rimangia quindi l'alfiere non è impresa l'alfiere non è debole allora un pezzo difeso da un pedone questa costruzione qui è fantastica è una cosa che dobbiamo cercare di fare nelle nostre partite ed è inutile che vado ad attaccare un pezzo difeso da un pedone a meno che non è in relazione ad altre debolezze in particolare alla debolezza del re che è quella più importante quindi in questo caso non ci sono debolezze tattiche soltanto il re e non riesco a organizzare niente di efficace invece se prendiamo un'altra posizione sempre con lo stesso diciamo con gli stessi pezzi sulla scacchiera per esempio questa qui cambia tutto quanto perché il pezzo sempre il nostro alfiere di sei non è difeso da un pedone attenzione la cosa fondamentale è che il pezzo sia difeso da un pedone che attaccare negli scatti significa minacciare di catturare con un pezzo di valore o catturare senza che nessuno possa riprendere semplicemente sta lì in difeso me lo patto basta oppure catturare con un pezzo di valore inferiore fare uno scambio rispetto al pezzo che sta difendendo il pezzo attaccato quindi se un cavallo mangia un alfiere difeso da un cavallo alla fine non c'è stato nessun guadagno invece in questo caso l'alfiere è difeso appunto da un pezzo per cui nel momento in cui lo minaccio non c'è il pedone che è sempre un fantastico difensore dei pezzi ma c'è un pezzo che lo difende quindi questa relazione è una relazione precaria soprattutto perché poi è in nato certo è inchiodato il cavallo f7 è inchiodato quindi è come se non esistesse il nero si sposta per spezzare l'inchiodatura grosso errore non è la mossa giusta però diciamo una reazione di questo tipo il nero si sposta per spostare l'inchiodatura e a quel punto posso catturare il cavallo in seguito catturato l'alfiere vedete che il fatto che non sia difeso da un pedone lo rende un pezzo un pochino sospeso questa è la grande categoria che vedremo meglio nella terza posizione diciamo di questa serie per introdurre il concetto di debolezza tattica che è proprio il pezzo sospeso cioè il pezzo che non è difeso neanche da un altro pezzo ancor meno da un pedone è un pezzo che sta nell'aria quindi qui la stessa mossa cavallo 4 stacco semplicemente è una forchetta un attacco doppio il cavallo mangerà l'alfiere non perché diciamo elimine difensori o c'è un gioco particolare semplicemente questo pezzo è del tutto sospeso un grande maestro inglese famoso tra l'altro per essere uno delle persone più intelligenti al mondo col cui più alto al mondo john nunn in un suo libro ha introdotto una definizione fantastica dicendo i pezzi sospesi cadono che è meravigliosa ok quindi quando tu giochi monti devi avere una specie di radar per individuare questi benedetti pezzi sospesi sospesi non sufficientemente difesi difesi da altri pezzi inchiodati con possibilità di attacco simultaneo no poi poi è chiaro io ho messo le basi semplici sempre la definizione di fondo però in tutte le posizioni c'è questo reticolo di relazioni basate sulla cattura che è appunto la tattica quando riesce a capire dove sta all'inghippo dove c'è il pezzo sospeso non difeso li devi colpire o preparare il colpo perché magari non sarà subito sarà fra un paio di mosse adesso facciamo un esercizio adesso ti faccio fare un paio di esercizi su questo su questo tema in cui ti metterò una posizione un po più complessa in cui ci sono tanti pezzi ma la tua ola si chiama pisco power geniale grande brand pisco power e tra l'altro non neanche inventato io un mio amico che personaggio leggendario perché lui è stato da giovane under 20 campione di scacchi francese che è difficile e campione di rugby con toulouse quindi lo stesso anno questo è un piccolo è lui mi chiamava in questo modo che pesco paolo che è interessante allora in questo momento ti faccio vedere delle posizioni quindi quando io mi chiedo ma qua non so cosa fare la mia mentalità dovrebbe switchare su ok attacco e provo a individuare una debolezza l'avversario sapendo che il re la madre di tutte le debolezze a prescindere posso cercare concentrarmi su quella che è una sua debolezza ecco per cui la mia mentalità deve essere questa chiaro ci sono l'altra volta ti ho detto devi dar conto di tutti gli scacchi presenti nella posizione ti ricordi che ho visto che l'hai usato nelle due partite sono stato molto fiero di te mi è piaciuta molto questa cosa è semplicemente dal conto degli scacchi significa verificare le conseguenze dell'attacco naturale alla debolezza naturale presente in tutte le posizioni non c'è niente di più naturale appunto di fare questo ok ora guarda questa posizione qui l'obiettivo è dirmi quali sono delle relazioni tattiche cioè basate su catture reciproche presenti e qual è la mossa che può portare ad un guadagno di materiale cioè io mangio qualcosa e per qualche motivo riesco l'altro se mi rimangia non va bene oppure mangio materiale una quantità di materiale più grande e vado in vantaggio qui è tutto basato sulla cattura sono pezzi in presa reciproca l'esercizio è indicare quali sono i pezzi in presa reciproca e se questo pezzo in presa è sufficientemente difeso oppure no quindi numero di attaccanti e il numero di difensori parto dai miei dal bianco tu sei bianco esatto vediamo un pochino quello che puoi catturare se è sufficientemente difeso ok posso catturare alfiere g7 con il mio alfiere quante volte attaccato una volta sola dall'alfiere in d4 quante volte difeso una volta sola dal re ok quindi la mossa alfiere per g7 di per sé non è un guadagno di materiale perché non cambia niente poi ho lato mio chiaramente torre c8 che è difesa da due pezzi regina e alfiere alfiere b7 regina d8 quindi questa è un'altra un altro pezzo posso catturare posso catturare il cavallo in d7 e lo posso catturare come alfiere da b5 da set direi questi pezzi che posso catturare io giusto giusto ora introduciamo una piccola regoletta fondamentale per capire se c'è una debolezza tattica quando fai la somma fra attaccanti e difensori o meglio la sottrazione attaccanti meno difensori e il risultato fa 0 quella è una debolezza tattica in questa posizione quali sono le debolezze tattiche nel campo del nero la prima sarà sempre il non ho capito quando tu fai il conteggio fra attaccanti sui pezzi che possono mangiare un pezzo e difensori pezzi che possono ricatturare se tu mangi quel pezzo e il risultato fa 0 per esempio un attaccante meno un difensore 0 in quel caso parliamo di debolezza tattica quel pezzo è una debolezza tattica quindi torre in c8 una debolezza tattica perché io ho due torri e lui è una vecina in realtà anche la torre 8 difende la torre c8 quindi ok in realtà si in realtà ne ha tre ok la prima debolezza tattica siccome è un pezzo che non può essere difeso e il re il re non può non essere difeso dagli altri pezzi quindi in tutte le posizioni il re è sempre una debolezza tattica sia per il bianco che per il nero perché non esiste la relazione lo mangio e mi rimangia chi può mangiare il re nessuno di porti chi può difendere il re nessuno perché nessuno può catturare un re che è stato mangiato il pezzo che ha mangiato un re è sempre a somma 0 sempre debolezza tattica sempre 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 ecco perché la prima cosa che devi guardare è il re sempre dopo di che dopo di che altra debolezza tattica e ma c'è il pedone in a7 che non è di sempre non lo difende nessuno per cui la somma è ragione si però in a7 è una debolezza tattica però diciamo un po lontano parliamo dei pezzi parliamo delle cose più sostanziose parliamo dei pezzi a somma 0 cosa c'è in teoria c'è il cavallo in d7 se io riuscissi a metterli anche la regina ovviamente il risultato deve essere uguale numero attaccanti uguale numero difensori ok quindi cavallo e difeso dalla donna fa uno è attaccato dall'alfiere fa uno uno meno uno zero questo cavallo in d7 è la tipica debolezza tattica perché numero degli attaccanti 1 numero di difensori 1 risultato 0 cavallo in d7 è una debolezza tattica però scusa nella mia testa ignorante nel momento in cui il numero è 0 semplicemente sto cambiando il mio alfiere per un cavallo no no nel momento in cui il numero è 0 significa che se un difensore non ci fosse a quel punto il cavallo è perso ecco perché è debole debole perché costringe qualcuno a difendere ok a quel punto il gioco è semplice quando ci sono queste debolezze ce ne sono tante già in una posizione quando ci sono tre debolezze tattiche qualcosa esce fuori quindi re una il cavallo e l'altra poi l'altra debolezza tattica la torre in c8 diciamo anche sia anche se propriamente no ma più o meno anche la torre in c8 poi c'è un'altra debolezza tattica non vedo niente coach non preoccuparti del fatto che ti rimangiano quando mangi un pezzo capito ma il fatto che sia possibile fare un cambio di pezzi va benissimo significa che appunto c'è qualcosa di debole non abbastanza debole magari per vincere però debole che ci si può fare qualcosa quindi quali pezzi possiamo catturare il cavallo in d7 sicuramente poi cavallo alfiere torre certo cavallo alfiere e torre quindi se volesse tattiche quali sono il range 8 la torre in c8 che una finta debolezza tattica la togliamo il re in g8 l'alfiere in g7 e il cavallo in d7 queste sono le debolezze tattiche ora se tu le metti insieme utilizzando la tecnica delle mosse forzanti quindi le debolezze tattiche sono l'obiettivo abbiamo preso il mirino e abbiamo qualcosa dentro di ora utilizza la logica delle mosse forzanti scaccia di macchia di matto cattura promozione del pedone eccetera e mettila nell'ordine giusto e magari vinci qualcosa quello che farei io e io mangerei alfiere g7 in questo modo mi si libera la donna e ho due pezzi sul cavallo in d7 e qui c'è una scelta per lui lui può se non mangia il mio alfiere ho vinto un alfiere torno indietro e ho vinto un alfiere se mangia l'alfiere con il re io a quel punto mangio il cavallo qui ci sarebbe una grande domanda di dire il cavallo in d7 lo mangio con l'alfiere faccio un forte delle due torri o lo mangio con la regina ea questione di praticità perché poi l'altra grande domanda che credo tu voglia farmi è come si vincono le partite vinte che è un grosso e nel momento in cui ti rendi conto che vinci un pezzo per niente non è neanche importante stabilire se alfiere per di 7 migliore di donna per di 7 a un certo punto io farei la cosa più pratica cioè cambio anche le donne e diventa più semplice giocare questa posizione a meno che non calcolo che c'è un problema perché se calcolassi che c'è un problema chiaro cercherei la mossa precisa che che stupido anche perché se mangio con la donna e lui rimangere io rimangio con l'alfiere un ford delle due torri quindi ancora meglio e quindi a partire da qui facciamo un altro esercizio che non c'entra con questa cosa però si ricollega a quello che abbiamo fatto l'altra volta dopo alfiere per g7 senza muovere i pezzi dopo alfiere per g7 facciamo finta che il nero risponda con alfiere per f3 questo è puro calcolo mentale ti sto facendo soltanto un esercizio di visualizzazione alfiere per g7 alfiere per f3 prenditi un paio di minuti di tempo per dirmi dopo alfiere per g7 alfiere per f3 qual è la mossa migliore per il bianco e quali sono le conseguenze chiaramente utilizzando sempre mosse forzanti e debolezze tattiche cioè la reazione che avrei distinto è che non voglio scoprire il re mangiando col pedone che è in g2 e quindi vado a mangiare con la regina in f3 il problema è che se mangio in f3 perdo l'alfiere aspetta 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 allora questa quello che sto dicendo adesso è la cosa di gran lunga più importante che ti ho detto finora ma già te l'ho detta l'altra volta ma questa è la cosa di capitale importanza quando tu fai una mossa nella mente no devi farla davvero cioè non è che devi andare col pensiero oltre come se la mossa fosse stata fatta prima di averla fatta cioè tu in questo momento non hai nella tua mente la posizione dopo alfiere per g7 alfiere per f3 io ne sono sicuro che non ce l'hai nella tua mente ok stai col pensiero astratto andando oltre immagini che è bellissima come cosa per carità molto bene però qualcosa che è oltre non ti serve stiamo nel piccolo raggio stiamo facendo cose semplici semplici scuse usando una modalità di pensiero molto astratta molto più elevata che non ti serve in questo caso devi soltanto vedere ok la tattica questa è un'altra frase bellissima che dice che la tattica e osservazione e la strategia e riflessione ok tu stai riflettendo non devi riflettere proprio osservare c'è le cose di te le devi vedere alfiere per g7 alfiere per f3 concentri guarda ok ok faccio benissimo tu vuoi fare donna per effetti d'accordo che è una prima ipotesi ma vedo la mia domani bravissimo guarda adesso la mossa del tuo avversario la devi fare nella mente la devi vedere proprio devo muoversi pezzi ok a questo ma non stai calcolando stai riflettendo ok ok donna f3 re mangia g7 bravissimo re per g7 fermati poi anche chiudere gli occhi o questo quando faccio questo esercizio chiedo all'allievo di chiudere gli occhi se resti a vedere la posizione attuale dopo la mossa re per g7 più o meno benissimo benissimo allora io ti rifaccio a questo punto la stessa domanda dopo re per g7 quali sono le debolezze tattiche presenti nel campo del mero difficile eh queste sono cose molto difficili dai dai quali sono le debolezze tattiche presenti nel campo del mero dopo la sequenza alfiere per g7 alfiere per f3 donna per f3 re per g7 ciò che dà risultato 0 quindi il re per g7 e una debolezza poi considera gli altri pezzi prendi di uno a uno prendi di uno a uno e chiediti sono una debolezza tattico oppure la torre in sciotto una debolezza tattica no perché è sempre difesa no se se il numero è zero a solo due a torre regina che la difendono e una debolezza tattica se bravo torre c8 debolezza tattica reggisettura rettica cavallo di torre anche il cavallo anche la torre stai già dicendo la mossa dai vai cosa vorresti fare dopo alfiere per g7 alfiere per f3 donna per f3 re per g7 dobbiamo colpire queste debolezze tattiche torre c8 reggisette alfiere e cavallo di 7 aspetta sto sto calcolando come fanno rodizzi si chiama il gran master che dice un attimo attimo devo visualizzare calcolare si mette lì e calcola 77 mosse nella sua testa allora beh a questo punto se io mangio torre c8 lui perde la regina bravissima oppure perde la torre certo oppure perde la torre bravissima ok visto monti chiaro è difficile no perché hai dovuto prenderti del tempo visualizzare questo è quello che una partita 10 minuti è difficile fare perché ti capita in certi momenti che perdi completamente il controllo fai del blando però nella tua mente stai cominciando a scrivere queste cose ok poi ripetimi pierre quando dici il che se il numero è zero il rapporto tra attaccanti difensori se il numero è zero quindi ho due torri che attaccano una torre in quel caso prima era difesa anche dall'alfiere quindi avevi tre pezzi che difendevano quella torre per cui non è una debolezza tattica se invece sono solo due pezzi diventa una debolezza tattica la dinamica la dinamica tipica è mangio e vengo rimangiato ok questo è un pezzo difeso però se ma se il pezzo che mangia e 1 il pezzo che difende 1 significa che un pezzo sta attaccando un pezzo sta difendendo quindi quello che sta in mezzo è debole è qualcosa che necessita di essere difeso se non ci fosse il difensore sarebbe mangiato ok quindi però se i casi i casi sono due o il pezzo già di suo non è difeso quindi lì sarà sempre o 0 addirittura meno no sarà 12 il numero degli attaccanti in più eccetera quando il pezzo non è difeso è un pezzo sospeso and in impresa in italiano si dice in presa cioè se lo vuoi te lo prendi quando invece è difeso per capire se è impresa il numero degli attaccanti deve essere più alto no quindi se il numero di attaccanti è 12 eccetera troppo mangiare e vince un pezzo se invece il risultato è 0 cioè lo mangio e vengo rimangiato quel pezzo è soltanto sospeso cioè a un certo punto se scomparisse il difensore me lo mangerei quindi il pezzo sospeso è qualcosa che ci dà lo spunto per un'azione tattica però scusami se al posto di regina di otto ci fosse torre di otto a di scendere la torre il numero sarebbe 0 però se io mangio scambio cambio le due torri in sostanza tu vuoi dire dopo al fiere per g7 sempre esatto si fa sia per g7 sì sì questo è chiaro se ci fosse la donna in d7 e la torre in e8 è chiaro che sarebbe soltanto uno scambio di pezzi a quel chiaro perché il risultato è zero però nella posizione che abbiamo è vero che il risultato è zero quindi è una debolezza tattica ma il nero sfortunato perché c'ha prima donna e poi la torre chiaro 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 a quel punto se io giocassi da regina f3 a regina b7 a quel punto metterei tre pezzi a attaccare la sua torre ipoteticamente quasi sempre i temi sono combinati per esempio c'è un re in g7 e qualcosa sulla colonna c quindi a un certo punto il trucchetto potrebbe essere mangio c8 faccio donna c3 scacco attacco il re attacco c8 capito per me è naturale vedere le debolezze insieme e quindi cerco una geometria che le acchiappa insieme oppure c'è il cavallo in d7 il re in g7 per esempio esercizio a mente libera c'è il re in g7 il cavallo in d7 che sono debolezze tattiche giusto se in quale casa attaccheresti contemporaneamente il re in g7 e il cavallo d7 con la donna il re in g7 così è in generale vogliamo creare un attacco doppio a questi due pezzi il mio alfiere nero è già andato non pensare in qualsiasi posizione non pensare a questa posizione c'è un range pensa alla posizione ideale re g7 cavallo d7 vuoi mettere la donna in una casa in cui attacchi entrano d4 per esempio quando tu vedi queste debolezze e poi ti devi un pochino organizzare fammi vedere poco poco dove possono ecco perché vanno preparate qui stiamo preparando il gioco sulle debolezze quindi abbiamo riconosciuto questo 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 eventualmente questo ebbe semplicemente alfiere per g7 su alfiere per f3 c'erano tante morte vincenti donna per di 7 per esempio una mossa vincente perché dopo donna per di 7 alfiere per di pet sto attaccando le due torri se dovesse mangiare in c3 mangere con l'alfiere addirittura sposto un pezzo attaccato e quindi ma capito e per la tattica è bellissima con la tattica puoi creare proprio qualsiasi cosa è molto molto bene ma anche donna per f3 vince donna per f3 vince poi basta che ne vedi una in partita non è che devi vederle tutte quante per esempio donna per f3 che la mossa più naturale vince per questo torre per c3 alfiere per c3 su re per g7 fettone per ciò ok è fondamentale questa cosa del di contare attaccanti e difensori fino ad arrivare alla somma zero ma chiaramente ti rendi conto che c'è una somma positiva ancora meno essenzio concentrarsi sull'attacco per esempio guardiamo questa posizione fai proprio la somma allenati a fare la somma in questa posizione delle possibili dei pezzi diciamo difesi difesi non sufficientemente sospesi eccetera eccetera allora parto vedrai che quando fai questa cosa trovare una mossa è facile perché alla fine tu ciò che è debolo devi colpire devi sempre andare verso la debolezza ok ok allora beh c'è un pedone in a7 fantastico e poi devi calcolare noi facciamo io chiamo questa cosa qui la lista della spesa fai la lista della spesa dici tutte le mosse che mi piacerebbe mettere nel carrello torre per a7 sicuramente però prima ancora di questo indicare in proprio le debolezze tattiche per una sette debolezza tattica poi vedo perdone a 7 re g8 perché sempre parti da reggio hai detto tu non ho capito prima l'hai detto tu quindi mi fido che è la cosa più importante re debole g8 re debolezza tattica cavallo f6 è protetto solo dal pedone giusto quindi è un'altra giusto attete le indico mano a mano range 8 perfetto cavallo f6 perfetto pedone a7 perfetto la regina in di 7 in realtà è protetta da due pezzi quindi non è una debolezza tattica e quindi per esempio cominciare da donna per di 7 non sembra dici caspita sto andando lì dove c'è tanta roba in nero però per esempio dopo alfiere per f6 se dovesse fare g per f6 diventerebbe a nebolezza tattica alfiere per f6 per esempio se la posizione fosse giusto giusto certo a quel punto diventa una debolezza tattica perché se no corretto i veri ciò che non è debole ora potrebbe essere e poi abbiamo vabbè alfiere b7 che posso andare a catturare come alfiere in f3 per cui anche quello ok quindi quando tu vedi tutte queste belle debolezze tattiche qualcosa esce fuori sicuramente ok e ti devi mettere a calcolare a quel punto il calcolo poi deve essere paziente e fare quello che fare come narodizzi devi vedere le cose finché non le vedi non stai calcolando io io ti dico qua cosa farei vado vai io catturerei alfiere b7 donna mangia b7 oppure perde l'alfiere alfiere mangia f6 tu stai seguendo un filo vuoi andare da qualche parte hai trovato una direzione mostrami la direzione poi ti dico vai dimmi dove vuoi arrivare alfiere per b7 donna per b7 alfiere per f6 cosa fai mangia o perde un cavallo oppure mangia col pedone f6 apre la posizione apre la davanti al re non ha più un pedone davanti al re e a questo punto mi si libera una strada verso il re ad esempio donna g4 scacco dopo di che non saprei che cosa fare ok ok però se in realtà ho cambiato due pezzi però ho una posizione che mi sembra migliore rispetto rispetto alla sua ok 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 in realtà qui la posizione di partenza è svantaggiosa per il bianco perché come vedi c'è un pezzo in meno quindi questo già influisce influisce molto sul risultato ma mi interessava soltanto individuare le cose da colpire le cose il bersaglio a colpire quello che dice giusto in realtà dopo donna per b7 con la torre sta attaccando la donna chiaro capito quindi tu sei andato in una direzione giusta però nel passaggio intermedio non hai veramente mosso tutti i pezzi non ti sei accorto di questa cosa questo è il motivo per cui commetti dei blunder perché vai troppo veloce vai troppo verso dove vuoi andare e non fai questi piccoli passaggi intermedi dei quali vengono fuori delle nuove possibilità che magari di sviluppo ok questo è il rivelatore sono molto contento di questa cosa proprio completamente rivelatore in questa posizione non possiamo fare granché per cui per esempio dopo alfiere per f6 che crea molte altre debolezze tattiche se il nero dovesse mangiare qui in f6 il meglio che potremmo fare sarebbe quello di mangiare e poi mangiare a 7 creando anche un'inchiolatura questo è il meglio che potremmo fare ma non è granché cioè il nero qui riesce a mantenere il vantaggio ok c'è il bianco aveva un pezzo in meno sin dall'inizio per cui non peraltro qua se lui mangia alfiere f3 a ok perde serve la torre e se fa alfiere c6 anche perde materiale riesce a vedere perché alfiere c6 non è buona come mossa alfiere c6 vabbè perde sempre la torre in d7 no se fai torre per d7 alfiere per d7 ti ho perso ok ha giusto ecco no 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 beh certo in questo caso se io mangio l'alfiere in c6 se lui mangia la torre io mangio torre 8 bravissimo bravissimo ok diciamo il calcolo riesci bene no quando ci sono queste sequenze riesci bene a seguire questa è un'ottima cosa utilizza questo metodo ok in queste due posizioni costruite se non sono neanche esercizi sono posizioni puramente costruite per creare catture reciproche eccetera e per farti capire che usare questa tecnica delle debolezze tattiche ti dà sempre degli spunti su dove calcolare quindi la logica corretta qual è individuare le debolezze tattiche in base a quelle fare una lista della spesa cioè le mosse auspicabili in una posizione e calcolare calcolare utilizzando la logica delle mosse forzanti la logica delle mosse forzanti la usi mentre calcoli è chiaro che puoi anche usarla per avere degli spunti ci fammi vedere se c'è qualche scatto ok però prima dobbiamo fare una lettura tattica dobbiamo vedere quali sono le cose che potrebbero essere attaccate su quelle poi facciamo il nostro programma e su quelle poi calcoliamo questo è un lavoro enorme capitola lavoro molto complesso ecco perché poi uno ci pensa tanto per fare una mossa che non è affatto scompato no e vedrai che nelle partite che giocherai ti saranno offerte tantissime occasioni proprio perché un giocatore che non abbia una formazione ben precisa non le fa queste cose gioca in maniera un po istintiva come viene no e però giocando in questo modo si aprono mentre un giocatore che ha un modo di pensare strutturato dice no attenzione amico mio hai fatto questa cosa ora ti faccio vedere quello che succede wow questo è cambia tutto l'unico problema che vedo è riuscire a calcolarlo relativamente in modo rapido perché poi a un certo punto è chiaro che all'inizio ti conviene farlo quasi a ogni mossa no per allenarti per fare un certo punto poi diventa naturale è come quando impari una lingua all'inizio dici modo come si dice sta cosa devo usare quel tempo quella poi ce la fai per me è proprio automatico è come se si accendesse guardi una posizione si accendono delle spie luminose ok e quindi faccio la lista delle debolezze sue partendo dal re la lista delle sue debolezze e quando vedo un conto uguale a zero pezzi miei verso spezzi sui uguale zero che sembrano rito a quel punto dico quella è una debolezza che devo capire come attaccare non la posso attaccare immediatamente la posso attaccare immediatamente come nel caso della regina prima perché comunque anche se il totale zero ugualmente conveniente per me oppure devo capire come mettere più pressione su quella debolezza in sostanza per cui in ogni posizione tu uno spunto ce l'hai perché qualcosa esce fuori sempre ok chiaramente gli scacchi scatti sono la prima cosa da vedere mi raccomando continua le mosse forzanti sono proprio l'ossatura del tuo pensiero è questo è a monte il lavoro di analisi ma chiaramente gli scacchi tutte queste cose qui le devi sempre verificare ogni mossa poi quando calcoli fare veramente la mossa dell'avversario questa è la cosa più difficile che ci sia negli scatti perché le mosse nostre le vediamo no tu giustamente ti sei proiettato in avanti con le tue mosse essere sicuro che prima di muovere hai fatto anche la mossa dell'avversario questo è il tempo giusto mossa mia è mossa sua altrimenti stai giocando da solo ok quando sono attaccato ragionano nello stesso modo non sei attaccato la cosa migliore sarebbe non difendersi il gioco degli scacchi un gioco d'attacco ok quando sei attaccato qualcosa non ha funzionato mi sarebbe meglio non difendersi ovviamente non è sempre possibile quindi la prima reazione dovrebbe essere tu mi stai attaccando ma non è che io posso farti scacco per esempio non è che posso farti una cosa più brutta questa sarebbe la giusta reazione se non è possibile e ci caspita mi devo difendere a quel punto come mi difendo con meno forze possibili così ce n'ho di più per attaccare sempre l'attacco deve essere altro il tuo obiettivo deve essere sempre a quanto più c'hai per attaccare tanto più la tua posizione ecco perché per esempio all'inizio dell'apertura all'inizio della partita non la fase detta apertura dobbiamo portare fuori i pezzi che i pezzi servono per attaccare quanti più ne porti fuori tanto meglio per te chiaro chiarissimo tanto meno ti indebolisci tanto meno per strada lasci cose da attaccare tanto più pezzi c'è tu per attaccare tutta una logica di questo tipo perfetto va bene ottimo allora queste sono le due i due pilastri del pensiero scarchistico concreto individuare le debolezze e attaccarle utilizzando il metodo delle mosse forzanti ora se vuoi guardiamo qualcosina delle due partite dai sono un po stanco forse no 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 assolutamente scherzo quando finiamo sai che giocherò quindi cioè questo è quello che succederà io mi ero segnato delle cose interessanti allora questa partita a un certo punto tu giustamente dai fattuali ci sono successe diverse cose un po curiose cioè a un certo punto tu qui come torre c1 lui fa al fiere a casei non ti rendi conto che il pedone 3 e inchiodato no perché se mangiati di 4 quindi fai cavallo b6 scatto giusta forno indietro col cavallo va bene lui mancia al fiere qui però se la scelta è fra perdere una qualità oppure perdere un pezzo cioè non rimangiare il cavallo meglio perdere la qualità tu fai scacco giusto vedi questo è quello che dicevamo prima mi attacca o mi mangia cosa faccio faccio una cosa più forte cioè faccio scacco questa giusta logica re b8 qui chiaramente ti conviene mangiare perché dice però però perdo una torre così o per di una qualità perché nella mia testa la torre è meglio di un alfiero di un cavallo niente molto meglio meglio la torre di un alfiero di un cavallo però è meglio avere lo stesso numero di pezzi sulla scacchiera invece così con la mossa che hai fatto tu c'è un pezzo in meno ah ok vedi 1 2 3 4 4.3 infatti in inglese il sacrificio di qualità o qualità si dice exchange sacrifice un cambio è un cambio pezzo contro pezzo è chiaro che più forte la torre però almeno abbiamo giusto se ti capita in futuro di poter cambiare una torre contro un alfiero oppure perdere un pezzo molto meglio dare la torre contro un alfiero poi guarda che succede lui a questo punto sbaglia ti dà una grande occasione scacco scatto qui lui deve venire in d7 cosicché se fai scacco c'è ancora la casa e sei hai una mossa magica non so se funziona potrebbe anche funzionare la mossa magica vada per giusto per dirti come ragiono io no io qui cosa vedo vedo il reine sei che per me è la cosa fondamentale vedo che c'è una torre qui e quindi della torre se diventasse rossa anche la torre potrei fare una forchetta col cavallo da quale casa la posso fare dal da d8 da d8 quindi devo spostare la torre in una casa pericolosa la metto qui perché questo capa questo cavallo in questo momento diventa una debolezza tattica giusto che è difeso soltanto una volta quindi sto minacciando cavallo di otto scacco se per esempio facesse una mossa sbagliata tipo torri d7 cosa fai bianco e debolezza tattica sono lui e lui mangio cavallo b5 lui mangia con torre b5 e io faccio forchetta con cavallo d4 e sto che bello questi sono proprio i fondamenti del pensiero scattistico che riconoscere le debolezze lui spaglia viene qui e a questo punto se non sbaglio io ci abbiamo matto forse non matto in due perché ti può sacrificare un sacco di pezzi però ci abbiamo matto io penso di essere andato con cavallo di otto immagino si è fatto cavallo di otto scala visto la forchetta è fatto cavallo di gioco però non ti sei accorto che anche la tua torre impresa se non ho visto la torre impresa detto cambio perché non sapevo come come chiuderlo qua qui resta messo male perché sta all'angolino come la chiappi questo qui entra in gioco le mosse forzanti no ovviamente cavallo di otto è una mossa forzante ma scusami allora torre b8 lui a quel punto ha soltanto o una c'è un sacco può andare soltanto in una casa a giusto solo a 6 e torre a uno scacco giusto fine deve fare cavallo a 3 unica mossa torre per a 3 torre a 5 e qui siccome siamo artisti facciamo matto di pedone bello ma se il pedone meraviglioso umiliante capito è chiaro che è molto difficile molto andando anche un po veloce visto è molto 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 difficile però la strada è questa ok passo dopo passo con calma prendendo il tempo di far muovere i pezzi nella mente di far spostare i pezzi dell'avversario di guardare è un esercizio diciamo costante per cui nella tua routine settimanale introdurrò introduco un altro elemento ok quindi abbiamo detto in tutti i giorni queste sei partite un giorno niente partite punizione e esercizi soltanto ok ma dei giorni in cui giochi un giorno deve essere dedicato soltanto alla crescita deve essere un investimento quindi tu le partite non le giochi neanche per il risultato finale le giochi per pensare in maniera quanto più precisa possibile cioè il tuo impegno non è guardare l'orologio ok dimenticati completamente in quel giorno lì che deciderai quale è dimenticati completamente dell'orologio e del risultato il tuo compito è soltanto stare lì e calcolare ok a quel punto potrei giocare match senza ranking vedi il competito potremmo fare un giorno senza ranking e con un tempo un po più lungo potresti giocare un giorno partite a 15 minuti senza ranking potrebbe essere un'idea anche se quando si gioca senza ranking a volte gli avversari sono meno motivati sminchiano io lo farei potremmo farlo col ranking e con un tempo più lungo ok ti fai un giorno a 15 e pensi 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 ma non guardare l'orologio non guardare proprio l'orologio deve essere il giorno in cui per te il tempo non esiste esistono soltanto i calcoli che fai lì ti devi stampare proprio devi essere veramente dici caspita qua ogni partita è ok wow è a volte ho questa sensazione soprattutto è un esercizio di visualizzazione che che è complesso all'inizio proprio è come se non so come spiegare serve curioso vedere dentro al cervello cosa succede mentre fai quest'operazione perché veramente hai questo questo ingranaggio che a volte senti che si muove a volte no a volte no aspetta più esercizi fai più tutto si muove si muove bene e con armonia questo giusto per mostrarti allora sei stato molto bravo è giocato una partita splendida ottima hai anche trovato l'idea di mettere l'alfiere in b2 che se lo facevi qualche mossa prima era divertentissimo perché con la torre in a2 intrappolavi la torre tu hai cominciato a farlo alfiere c1 e qua ti sei fermato non se fai alfiere b2 è finita qui scusami io ero bianco nero 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 giusto per farti capire per riallacciarsi riallacciarsi al tema di oggi quando fai alfiere b2 oltre intrappolare la torre stai creando una forza pezzo difeso da un pedone quindi sempre cerca di creare della forza capito ti mette anche al sicuro un argomento pier che ovviamente per me è un grande problema sono tutti questi finali su cui giro proprio come un disperato ecco faccio il segno della croce dico vabbè adesso boh c'è sì dico cerco di avanzare i pedoni protegge però non ho veramente una linea guida ecco anche qua cosa mi muovo sempre pensando debolezze tattiche c'è cerco sempre di avere lo stesso tipo di di pattern in testa no è un mindset poi le altre due domande fondamentali questa qui sui finali e come si vincono le posizioni vinte no è tutta la versione di mindset ok per esempio posizione vinta significa che tu a quel punto devi essere la persona più zen al mondo devi gioire del tuo regno di dirà ok mi siedo sul trono e c'ho una vista meravigliosa ok devi essere rilassato se non sei rilassato non è difficile vincere una parte che comincia a entrare nell'ottica invece dell'ansia ma dove se non vinco questa partita che vinta che cosa che ha il primo consiglio che ti do cominci una fase nuova cioè quando ti rendi conto che vinta per qualche secondo stacchi completamente dice bene adesso mi diverto a ok si comincia una partita nuova nella quale la regola è piano 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 ma la porto a casa divertendovi perché comunque se ci pensi è piacevole avere davanti a sé una posizione vinta no pensa se c'è una posizione persa che ogni volta che guardi la scacchiera è tutto un disastro ci malò il re fra un po mi fa scacco matto pezzi non ce ne ho mi minaccia da tutte le parti invece la tua bella posizione vinta e la caspita che bella posizione che ce la fanno di vedere un pochino e poi per vincerla di solito basta soltanto giocare non è che bisogna inventarsi cose quando è vinta per esempio ai tanti pezzi in più per esempio cambia le donne consiglio più importante per vincere una partita quando hai vantaggio di materiale cambia le donne così non ti fa scacco matto e piano piano farai altri cambi e riesce a portarti da casa ma tutto nasce dalla disposizione d'animo stare proprio tranquillo e gioire di questa posizione che c'è ok ok e invece sui finali hai avremo modo di parlarne però i finali sono una cosa diciamo una fase della partita nella partita ci sono tre fasi no l'inizio il centro il finale la fine o il finale ogni fase alle sue regole che sono differenti una una dalle altre per cui è come se giocassimo tre partite in questo momento non mi voglio molto concentrare su su questo aspetto perché tu la priorità è costruire invece quello che stiamo facendo la visualizzazione il pensiero concreto eccetera in generale quando giochi il finale la cosa importante il principio forse più importante di tutti quanti e che ogni pezzo siccome ce ne sono di meno assume un valore più grande quindi l'importante relativa dei pezzi il valore relativo dei pezzi aumenta ok quindi ancora di più nel finale è importante che i pezzi siano attivi e possano fare qualcosa e il pedone diventa molto importante in finale per cui anziché giocare solo per fare il scacco matto giochiamo anche per promuovere i pedoni quindi attività dei pezzi cambia un po il valore dei pezzi come consiglio nel finale diciamo si puoi poi cominciare a giocare con il re devi usare tutti quanti i pezzi specie c'è specie solo quando non sono le donne attenzione che rende così finché ci sono le donne tienilo sempre bello al sicuro ma nei finali ma tu diciamo qui è giocato questo finale l'hai giocato molto bene poi a un certo punto è fatto un grosso blunder qui non c'è neanche una mancanza diciamo di tecnica o di com'è impostato il finale è giocato molto bene semplicemente un certo punto mangi anche 24 tutti i pezzi attivi cioè tu dovresti giocare istintivamente bene il finale dal giocatore d'attacco ok infatti giochi bene nonostante tu ti senta in crisi ma istintivamente lo giochi bene perché in finale quello che c'è da attaccare devi attaccare capito cioè in realtà è la fase più semplice nella partita solo che anche quelle in cui si fanno più errori perché ogni mossa pesa di più più importante però diciamo è peccato perché le tue partite sono state giocate bene tu mi dicevi che non eri con te invece sono stato molto contento delle ultime partite giocate molto bene ma ti è mancata lucidità alla fine ok ti mostro un'altra cosa questa per me è la cosa diciamo come tra come importanza pratica che ti darà più risultato perché poi chiaramente nelle due partite succedono delle cose abbastanza ricordanti no che è questa struttura ha fatto uno spoiler mi dispiace non fa niente che è questa struttura tu giochi spesso questa struttura che viene fuori dal giobbava london ok allora quale punto di questa struttura questo fonda sono nozioni di strategia che al momento non ci stanno non ci interessano quasi niente perché finché non perfezioniamo diciamo il la macchina pensante poi il resto non ha importanza comunque che succede qui avendo questi pedoni doppiati hai un vantaggio che il controllo di questa casa ok perché è un vantaggio perché quando tu ci metti un pezzo tipicamente un cavallo sarà un cavallo che è difeso da due pedoni quindi per l'avversario è difficile gestire questo valore un cavallo fortissimo ok inoltre puoi sempre cercare di fare f5 al momento giusto ok quindi tu giochi sempre soltanto per fare questo piano con g5 ma esistono due altri piani fare f5 per sdoppiare il pedone quando pensi che sia vantaggioso non è quello di fare appena puoi quando pensi che sia vantaggioso oppure un altro piano che secondo me è quello più bello e portare il cavallo in e5 e portare il cavallo scusami in e5 in questa casa qui solo che il cavallo non si muove ovviamente in questo modo allora dobbiamo ricordare però sarebbe bello che si muovesse così esatto dobbiamo ricordare a una manobra allora qui la mossa secondo la mossa che farei io poi il motore non lo so ma la mossa che farei io qui è il review per due motivi ma innanzitutto rebbi 1 devi assolutamente integrarla nel tuo bagaglio scacchistico cioè dopo l'arroco lungo la mossa successiva è sempre ok la puoi infatti quante volte mi danno scacco e mi dimentico che c'è quel è in continuo se ne rebbi 1 è il complemento dell'arrocco lungo d'accordo ok dopo rebbi 1 l'arrocco lungo diventa un rocco corto capito quindi non hai più tutti quei terribili problemi che ti vengono dalla colonna a eccetera della diagonale h6 g1 contanto ok rebbi 1 sa da fa per forza quindi la tua prossima mossa utile nel senso quando ti rendi conto che non c'hai debolezze tattiche immediate da sfruttare che le mosse forzanti non portano a nulla che non stai subendo minacce terribili c'è una mossa utile ci fammi fare rebbi 1 ok ok poi rebbi 1 è molto buona perché libera la casa c1 quindi qui la manovra quando c'hai tempo sempre facciamo finta che il nero fa mosse così e abbiamo una posizione strategicamente vinta poi si deve giocare per carità però abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare ok così c'hai qualche spunto per giocare no se no sembra sempre che giochi la stessa partita così c'è qualche stato per giocare un po diciamo con strategie variabili diverse per cui oppure può essere f5 che però non gioco mai perché ho sempre paura che poi lui a quel punto avanza fine 55 e io e io dico boh e che faccio però però sempre riallacciandoci a forza e debolezza non abbiamo detto che il tuo punto forte e 5 non devi tenere che lui faccia qualcosa con i 5 cioè seppure dovesse fare qualcosa con i 5 vale può succedere eventualmente puoi mettere anche ne so la donna in e3 puoi mettere un altro pezzo che controlla questa casa ma anche se dovesse succedere che ti fai 5 non è la fine del mondo eventualmente puoi mangiare e probabilmente puoi utilizzare questa casa che si è liberata per il tuo cavallo può utilizzare la colonna per la torre puoi anche fare a un certo punto un altro po on store no con g5 f4 puoi fare diverse cose diciamo che non ti preoccupa molto quando viene attaccato in un punto forte succede qualcosa va bene ma non è che sia questo grande però questo non è ideale così non ti consiglio di giocare in questo modo meglio per esempio l'occupazione della casa e 5 col cavallo o la spinta f5 quando il nero non può fare 5 ok ok no due super ottime ottima idea soprattutto re b1 che sembra una mossa admin che anche già beh chi se ne farei invece è fondamentale re b1 è la mossa di classe quando farebbe uno di senti proprio già grande piero senti caro qua abbiamo visto un sacco di roba c'ho il cervello in ebollizione cerco di metabolizzare adesso bene e quindi il mio programma da qua quando ci rivediamo è 4 più 2 match giornalieri e esercizi un giorno solo esercizi e un giorno solo minuti concentrando di unicamente sulla qualità di quello che riesce a vedere quindi utilizzare il metodo di ricerca delle modelle debolezze tattiche e mosse forzanti in maniera scientifica rigorosa precisa e a ogni mossa aprire degli scenari nuovi trovare delle idee calcolare che c'è lavoro 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 adesso è molto impegnativo perché di solito una partita non si gioca così però diciamo che questo è un obiettivo di allenamento un piccolo sacrificio per andare poi avanti più faresti 15 minuti ne puoi fare anche soltanto quattro al giorno ok due e due una serie di due una serie di due e sarai molto stanco vedrai che quando fai questa cosa mi direi caspita oggi proprio è faticato sembra quando hai dal medico che due aspirine fantastico piersi stato serpitoso e mi immergo vado mi immergo e noi ci ragioniamo prossima settimana certamente un abbraccio alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.